Amici di Swimming Channel, potrebbe anche essere tranquillamente la mia guardia del corpo, viste le dimensioni di Lorenzo Zazzeri. Ciao Lorenzo, come stai? Come mai da queste parti? Sto bene, stiamo qui per fare il 7 holly. Perché lui è alto come un po' tutti i velocisti nostrani, 50, 100 stile, ormai le dimensioni sono quelle, giammai un nano come me potrebbe andare avanti in una gara così breve. Lorenzo Zazzeri fa il 50 e il 100 stile libero e li fa anche molto bene, come stanno andando questi 7 colli? Diciamo mi aspettavo meglio, ieri ho fatto il 50 stile e non è andata come speravo, le sensazioni non sono molto buone, però domani ho il 100 stile e oggi è un giorno di riposo, quindi domani ho già voltato pagina e domani vediamo di fare una bella gara. Ecco, in queste 24 ore di riposo potrebbe anche essere che tu prendi la matita, il foglio di carta, perché dovete sapere che dietro sto ragazzone non c'è solo un nuotatore ma c'è anche un grandissimo artista che io prestissimo vi presenterò su swimmingchannel.it perché ha una passione per il disegno, raccontaci come è nata questa tua passione. ma l'ho sempre avuta fin da piccolo, ho iniziato ricopiando le videocassette dei artori animati della Disney, poi piano piano si è evoluta questa passione, ho frequentato il liceo artistico, mi sono perfezionato piano piano e ora mi piace fare ritratti, soprattutto i ferrealistici. Tu vedi meglio il tuo futuro come sportivo o il tuo futuro come artista? Io entrambi, ma penso più al nuoto, chiaramente. Però vista la qualità, io chiaramente parlo dal basso della mia ignoranza perché non sono un intenditore, però a vedere i disegni che presto pubblicherò sul sito sono delle cose eccezionali. Diciamo che sto pensando che con il nuoto e l'università che sto frequentando, il tempo che dedico al disegno è più o meno il 10% di quello che potrei dedicare. Ecco, quindi quando smetterai di nuotare, presumiamo, ragazzi dovremo comprare i quadri meravigliosi, diventerà, facciamo le corna perché magari diventerà un Van Gogh, speriamo che possa diventare così eccezionale. Prestissimo su swimmingchannel.it, Lorenzo Zazzeri con la sua meravigliosa arte del disegno. Da Corrado Sorrentino, Lorenzo Zazzeri. A presto, grazie, ciao.